Banca Popolare di Vicenza, una ferita ancora aperta per i vicentini che ha avuto una ricaduta sulla vita di tanti risparmiatori oltre al danno economico, anche quello sul tessuto sociale. Dopo l'attesa di giustizia, la risposta di ieri che ha condannato Gianni Zonin, ex presidente della Popolare di Vicenza a sei anni e sei mesi nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto poi dichiarato fallito. oltre alla confisca di 963 milioni di euro a carico dei condannati. Io personalmente ho un po' di delusione su quello che è non tanto la condanna ma quello che è stato l'andamento del processo e in definitiva quello che si è riusciti o non riusciti a dimostrare. Questo è un pochino... se effettivamente non c'erano prove andavano tutti assolti. Se le prove c'erano, complessivamente mi pare un risultato sui generis. Immagino che i vicentini siano soddisfatti per quanto riguarda la condanna, insoddisfatti per quanto riguarda la perdita dei soldi per cui questo penso sia il tema principale. Gli azionisti che hanno perso tanto andrebbero risarciti in tempi brevi, considerando come è la situazione. Sul fatto che Zonì abbia una condanna non gli importa niente. Secondo me i vicentini è importante che hanno perso tutti i soldi, quindi lì che avevano è giusto che vengano rimborsati, almeno in parte. Andrà avanti ancora due o tre anni il processo. Non verrà mai fatta giustizia, né in queste né in altre cose. E oggi i cittadini ancora di più rilanciano la battaglia di Rete Veneta per salvare Palazzo Tiene, antica sede di BPV, patrimonio Unesco, con le sue opere d'arte per restituirlo come museo aperto al pubblico, un risarcimento morale alla città che ha sofferto. Palazzo Tiene deve restare alla città, a tutti i cittadini e in modo particolare a quelli che hanno avuto delle grosse perdite, e anche da un punto di vista morale.